L'associazione rumena Arianna, presieduta da Andrea Citap e l'associazione Borgo Aversana, presieduta dal consigliere comunale Francesco Marino, si riuniranno domani 1 giugno alle 17 ad Aversana in occasione della festa del bambino per la seconda edizione dei disegni sull'asfalto. Un bel momento durante il quale i bambini rumeni, residenti a Batipaia, potranno rivivere qui le loro tradizioni. Quest'anno l'iniziativa è aperta a tutti i bambini, un vero esempio di integrazione e scambio culturale.